L'obiettivo di oggi è quello di assieme vedere un po' di caratteristiche di javascript e vedere come integrarlo in html. Avete già svolto un laboratorio a riguardo, ovviamente il laboratorio è stato un po' un impatto forte, nel senso che le conoscenze che avevo dato erano puramente teoriche, quindi è difficile riuscire a capire come funziona javascript, integrarlo con html, quindi è un'operazione difficile. Oggi riprendiamo quegli argomenti con calma, cercando di darvi qualche idea, qualche spunto, cercando di rispondere a quelli che sono i vostri dubbi, in modo che possiate eventualmente completare quello che è il laboratorio scorso. Giovedì, con calma, vedremo poi la soluzione del laboratorio, cercando di capire quali sono i punti critici. Partiamo da un esempio che trovate sul repository che vi ho linkato sulla chat, ed è sostanzialmente questo file javascript più un file html che non fa altro che includerlo. Allora, che cos'è questa variabile? L'analizziamo velocemente, inizia con una quadra e finisce con una quadra, quindi questo è un array. All'interno degli array vedete che ci sono una serie di elementi tutti separati da virgole, quindi questi sono per l'appunto gli elementi dell'array. Ogni elemento, vedete, è racchiuso tra graffe. Questo significa che quello è un oggetto, ovvero è la solita dichiarazione enumerativa, o se preferite letterale, di un oggetto in cui andiamo a mettere l'elenco delle sue proprietà con i relativi valori. Quindi ogni proprietà riporta il nome, due punti e il valore. Questo assegna questo array di oggetti alla variabile piano studi. Questo script che si chiama piano studi è incluso all'interno della pagina html che vediamo qua. Quindi quando noi andiamo a caricare la pagina html, all'interno della pagina sarà disponibile quell'oggetto, piano di studi, che noi vediamo qua. Quindi se andiamo a prendere la pagina, vi allargo tutto e vado a prendere la pagina, la pagina è vuota, non c'è niente, non abbiamo messo niente dentro il contenuto della pagina, ma se io vado ad aprire la console e vado a scrivere piano studi, vedete che mi viene stampato l'elenco e se lo espando mi ritrovo, mi ritrovo i valori che già avevo. A questo punto, il primo esercizio che vi propongo è provare a prendere questo array e identificare il valore minimo e il valore massimo dei crediti formativi dei vari insegnamenti. Lo proviamo a scrivere direttamente all'interno del file javascript, così è un po' più facile da comprendere e soprattutto è un po' più grande rispetto alla console. Quindi lo possiamo scrivere qui, quindi possiamo scrivere il codice qua sotto, oppure possiamo andare a scrivere il codice all'interno di un tag di tipo script. Allora, l'obiettivo è quello di andare a calcolare, iniziamo con il minimo, poi vediamo di calcolare anche il massimo perché è sostanzialmente analogo, il minimo tra i valori di cfu degli insegnamenti. Ci sono diversi modi, lo facciamo in due passi in modo da renderlo il tutto più semplice. definiamo una variabile cfu che è un array vuoto inizialmente, poi andiamo a scandire tutti gli elementi del nostro array piano di studi. Quindi for i uguale a 0, i minore di piano di studi punto length e poi let valore uguale piano di studi di i punto cfu e poi cfu punto push il valore v. ok, quindi noi a questo punto abbiamo un array che contiene dei valori, i valori di cfu e andiamo a calcolare il minimo. Per semplicità iniziamo a scriverlo come del codice a sé stante e poi lo trasformiamo in una funzione in modo che possiamo eventualmente riutilizzarlo. Quindi calcolo del minimo, let min uguale a, metto un numero grande a piacere, for let i uguale a 0, i minore di cfu punto length più più i e a questo punto vado a vedere se il valore cfu di i è minore del minimo, allora il minimo è uguale a cfu di i, altrimenti continuo a iterare. Alla fine posso fare console punto log minimo due punti più min. questo qua possiamo anche rinominarlo ad esempio in cfu min. così ce l'abbiamo a disposizione. A questo punto se io salvo questo e ricarico la pagina, vedete che qui all'interno della console mi è stato stampato il valore minimo. Se noi diamo del codice come questo che può essere riutilizzato, un'idea è quella di andare a metterlo all'interno di una funzione. quindi spostiamoci nell'altra, nell'altro file, il file javascript che viene incluso e andiamo a definire una funzione min che riceve un array a. for let i uguale 0 i minore di a punto length più più i evitiamo il risultato a questo punto se i è uguale a 0, risultato è uguale ad A di i altrimenti se A di i è minore di risultato allora risultato è uguale ad A di i return risultato. Per come è stato scritto questo codice, se l'array ha dimensioni nulle, quindi non ha nessun elemento, il risultato resterà undefined. Ovviamente io potrei chiamare questa funzione min passando una stringa o un altro oggetto, quindi non è il massimo, per cui una cosa che posso fare è andare a dire array punto is array di A. questo sostanzialmente verifica che A sia un array, per cui if not array is array di A, quindi se il parametro non è un array, semplicemente andiamo a segnalare un errore. un attimo finisco questo e poi rispondo alla domanda in chat. A questo punto l'errore potrebbe essere un console.error min si applica a array oppure throw non posso applicare min a un oggetto che non è un array ok di solito si mette o uno o l'altro, non si mettono entrambi ok è un'esagerazione a questo punto qui nel codice invece di andare a fare questo posso andare a commentare tutto questo codice e andare a dire che cfu min uguale a let cfu min uguale a min di cfu a questo punto salvo ricarico la pagina e ottengo il valore 6 esattamente come prima. Allora domanda è possibile utilizzare la sintassi for elemento of array quindi se io scrivo for let e of cfu diciamo console.log e e quello che ottengo sono i numeri ok la sintassi elemento of è una sintassi che è un po' più recente di javascript 6 quindi funziona sui browser moderni come direi che abbiamo tutti è possibile che non funzioni su i browser più vecchi attenzione a non confondere for elemento of con for e e in cfu perché in questo caso e in cfu non mi va a elencare i valori all'interno dell'array ma mi va ad elencare gli indici all'interno dell'array ok vedete che semplicemente in questo caso 0 1 2 3 fino a 18 che sono i numeri ok quindi elemento of funziona ci da gli elementi non è s6 però diciamo che in generale può andare elemento in non funziona o meglio non ci da quello che ci aspettiamo non ci da l'elenco degli elementi ma ci da l'elenco degli indici all'interno dell'array ok altra domanda 1 javascript è case sensitive? sì nel senso che a uguale a 1 a piccolo uguale a 2 quindi quando vado a prendere a piccolo ottengo 2 quando vado a prendere a grande ottengo 1 ok quindi bisogna fare attenzione perché se sbagliate il maiuscole e minuscole rischiate di o fare riferimento alla variabile sbagliata oppure di trovarvi una variabile che non è definita seconda domanda nel momento in cui definiamo un nuovo vettore cfu non potremmo usare il metodo sort per ordinare l'array in maniera crescente e prendere il primo elemento che sarà il minimo sicuramente questa è un'altra soluzione ad esempio se volessimo andare a recuperare sia il minimo che il massimo potrebbe aver senso andare a ordinare l'array e prendere il primo e l'ultimo elemento da un punto di vista di prestazioni di efficienza è più semplice andare a scandire il vettore e prendere il minimo e il massimo perché l'ordinamento è un po' più complicato però in termini di scrittura del codice sicuramente noi scriviamo un sort e abbiamo fatto tutto non dobbiamo andare a scrivere il ciclo direttamente per cui provo a scrivervi un'altra funzione che vi calcola non soltanto il minimo ma vi calcola il minimo e il massimo function diciamo chiamiamola minmax array di a possiamo andare a dire di nuovo se non è un array lanciamo un'eccezione segnalando l'errore il risultato a questo punto lo mettiamo come un oggetto un oggetto che avrà due proprietà proprietà min e max ok a questo punto facciamo una copia dell'array a.slice perché facciamo una copia perché se no andiamo a ordinare l'array che ci ha passato qualcuno immaginate qualcuno che ci passa un array su cui sta lavorando e vuole semplicemente sapere il minimo e il massimo noi oltre a calcolargli il minimo e il massimo andiamo a riordinarglielo e quindi perde un po' di informazioni ok si perde quello che era l'ordinamento iniziale per cui se andiamo a fare operazioni su degli array è buona norma andare a fare una copia da questo punto facciamo copia. punto sort e poi andiamo a dire risultato punto min è uguale a copia zero e risultato punto max uguale uguale a copia di copia.lent meno 1 return risultato salvo ricarico la pagina a questo punto io posso fare la chiamata direttamente dalla console min max d cfu il risultato il risultato vedete è un oggetto che ha minimo e massimo il problema è che il minimo è 10 e il massimo è 8 e l'osservazione che c'è in chat adesso è giusta dobbiamo passare un comparatore cioè una funzione che sia in grado di fare i confronti perché ricordatevi che quando chiamiamo sort tutti i valori vengono convertiti in string e poi vengono confrontati tra di loro quindi se io devo fare un ordinamento tra le string e ovviamente uno zero è minore di sei devo andare a confrontarli come numeri e non come string ok questo è uno degli errori tipici quando andiamo a fare l'ordinamento per cui all'interno della nostra funzione che troviamo qua quando facciamo il sort andiamo a passare una funzione lo possiamo fare la maniera compatta dicendo e uno e due i due elementi e poi freccia più e uno o in realtà basta fare e uno meno e due a questo punto se salviamo ricarichiamo la pagina e andiamo a calcolare min max il risultato sono 6 e 12 come effettivamente ci saremo aspettati ok se noi chiamiamo min max di prova quindi passiamo a qualcosa che non è un array vedete che viene generato un'eccezione e quindi viene fermata l'esecuzione con questo messaggio non posso applicare min a un oggetto che non è un array non come vi dicevo nella lezione non è tanto importante che voi impariate a utilizzare le eccezioni l'importante è che sappiate che esistono e che l'effetto netto di questo throw è che l'esecuzione si ferma in quel momento e termina tutto a meno che più in alto ci sia un blocco tra i catch ok a questo punto quello che possiamo fare è provare ad andare a generare del codice che sostanzialmente ci mostri il contenuto del piano di studi questo un po' come fosse una pagina in cui viene presentato il piano di studi di un corso di laurea diviso per anni diviso per semestri eccetera con il corso i relativi crediti ordinati ragionevamente in una tabella come possiamo farlo? lasciatemi mettere qua un altro script così manteniamo il tutto separato ok quindi andiamo a mettere un h1 piano di studi cosa dobbiamo andare a generare? dobbiamo andare a generare sostanzialmente una tabella in cui le righe contengono i vari elementi potremmo addirittura andare a mettere una tabella per ogni anno di del corso di studi quindi una tabella per il primo anno una tabella per il secondo e una tabella per il terzo come facciamo a sapere se la andando a scambiare gli elementi dobbiamo andare a creare una nuova tabella o meno? beh quello che possiamo fare è avere una variabile anno precedente uguale a 0 se il nuovo anno è diverso dall'anno precedente allora costruiamo una tabella e andiamo a generare le righe per il resto possiamo fare un for let i uguale a 0 i minore di piano di studi punto length più più i quindi se la nuova riga piano di studi di punto fatemelo scrivere così let corso uguale piano gli studi di così è un po' più corto da scrivere se corso punto anno anno è diverso da anno precedente allora vado a generare una tabella quindi inizio una nuova tabella in ogni caso per ogni corso genero una riga con i dati del corso per semplicità possiamo andare a mettere una variabile che chiamiamo html uguale a una stringa vuota che man mano andiamo a arricchire con tutto quello che aggiungiamo quindi inizio una nuova tabella vuol dire che html più uguale a table e poi oltre a table vado a mettere anche una riga al cui interno vado a mettere degli header e negli header vado a mettere le informazioni relative al nostro insegnamento ad esempio periodo didattico il nome dell'insegnamento e i crediti prima della tabella potrei mettere un titolo che riporta l'anno di corso quindi html più uguale a diciamo un titolo di livello 2 anno più coso punto anno più fine del elemento di titolo 2 una volta fatto questo possiamo andare a dire che l'anno precedente è uguale all'anno del corso e poi vado a generare una riga che contiene le informazioni relative al nostro corso quindi html più uguale riga un dato che corrisponde al periodo didattico quindi più corso punto periodo didattico poi vado a mettere un altro cella della nostra tabella in cui in cui vado a mettere corso punto insegnamento più un'altra tabella un'altra cella scusate in cui vado a mettere corso punto cfu e chiudo la nostra riga ovviamente quando inizio una nuova tabella devo andare a chiudere quella precedente nel caso in cui ce ne fosse una quindi quindi chiudo l'eventuale tabella precedente quindi se anno precedente era uguale a 0 vuol dire che scusate è diverso da 0 vuol dire che c'era un anno precedente e quindi vado a mettere html più uguale a slash h slash table e metto un a capo attenzione io metto questi a capo qui in vari punti non perché siano strettamente necessari ma perché se vediamo poi la stampa di quello che viene fatto sono rendono più facile la lettura della nostra stringa per cui anche qui alla fine della riga può essere utile e a questo punto posso fare console.log html e posso anche fare document.write document.write html ultima cosa ricordiamoci che prima di terminare devo chiudere l'ultima tabella che avevo ancora aperto a questo punto salvando questo codice e andando a ricaricare il nostro file otteniamo questo quindi piano di studi anno 1 anno 2 e anno 3 e poi primo didattico 1 2 analisi matematica 10 crediti 8 12 eccetera eccetera ok ovviamente ovviamente sarebbe bene definire un css che permetta di andare a formattare un po' meglio queste tabelle però in questo momento la nostra attenzione è sul generare contenuti quindi la parte di visualizzazione di layout è ovviamente un qualcosa di separato che noi possiamo comunque andare a mettere successivamente attenzione che questo codice funziona perché o almeno funziona bene perché all'interno del nostro piano di studi i dati sono riportati in ordine vedete che abbiamo primo anno primo periodo didattico poi scusate secondo anno secondo periodo didattico scusate primo anno secondo periodo didattico secondo anno primo periodo poi abbiamo secondo anno secondo anno secondo periodo terzo anno primo periodo e poi infine qua su scusate qua giù terzo anno secondo periodo in generale è buona norma non affidarsi a un ordinamento che potrebbe variare o potrebbe non essere quello che noi ci aspettiamo per cui prima di andare ad elaborare i dati è bene andare a se ci aspettiamo che i dati siano ordinati in un certo modo a effettuare un ordinamento esplicito quindi prima di fare questo noi dovremmo andare a fare un piano di studi punto sort ora fare un piano di studi punto sort non ha molto senso perché se sono stringhe vengono ordinati in ordine alfabetico se sono valori numerici vengono ordinati in base al loro valore se mettiamo un comparatore altrimenti vengono ordinati in base alla loro rappresentazione stringa se sono degli oggetti perché piano di studi vi ricordo è un array i cui elementi sono degli oggetti come vengono ordinati questi oggetti? non è definito questi saranno convertiti in stringa e successivamente ordinati cosa succede nel convertire in stringa questi valori? beh vuol dire che se io vado a prendere piano di studi elemento 0 punto to string e il risultato è questo ed è lo stesso anche che per l'elemento 1 quindi non c'è alcun ordinamento la soluzione ovviamente è quella di andare a mettere qua esplicitamente un qualcosa che ci permetta di fare una comparazione quindi andiamo a prendere c1 virgola c2 ve lo scrivo sempre con la notazione della row function e poi apro una graffa perché perché l'ordinamento non è esclusivamente in base all'anno ma anche in base al periodo didastico al semestre ok? se volessimo fare un ordinamento in base esclusivamente all'anno dovremmo fare un ritorno di c1 punto anno meno c2 punto anno in realtà è possibile che a parità di anno ci siano dei semestri diversi quindi quello che possiamo fare è fare let differenza anno uguale c1 meno c2 a questo punto se la differenza tra gli anni è diversa da 0 ovvero abbiamo due anni diversi l'ordinamento è chiaro se c'è il primo anno e il secondo l'ordine è quello degli anni e quindi andiamo a restituire la differenza di anno ok? altrimenti facciamo una differenza tra i semestri il periodo didattico altrimenti facciamo un return fatemelo scrivere in maniera analoga a quello di prima facciamo una differenza di periodo didattico che è uguale a c1 punto pd meno c2 punto pd e a questo punto facciamo un return con il dif pd se ci fosse un ulteriore passo potremmo andare a fare un confronto tra ad esempio i nomi dei corsi quindi metterli in ordine alfabetico eccetera a questo punto ovviamente non cambia nulla ma se io vado ad esempio a spostare gli insegnamenti del primo anno dall'inizio al fondo del nostro array e vado a ricaricare la pagina vedete che l'ordinamento è sempre lo stesso se io invece mi dimentico di fare questo ordinamento e ricarico la pagina vedete che inizia da danno 2 3 e poi 1 peggio perché se io avessi invece di avere tutto il blocco del primo anno qui se l'avessi sparpagliato quindi vado a mettere chimica qua il risultato sarebbe questo hanno 2 ho 2 esami poi ho l'anno 1 con un esame poi ho di nuovo l'anno 2 poi l'anno 3 e poi l'anno 1 ok? tutto ciò si risolve se noi prima di fare la scansione dei dati andiamo a ordinarli e quindi li ottengo in ordine ok? quindi qui abbiamo visto come l'operazione di sort può essere fatta passando un comparatore che sia anche complesso ripeto qui ho utilizzato la sintassi dell'arrow function potrei scrivere in maniera del tutto analoga questo codice in quest'altro modo quindi andare a dire function c1 c2 e poi le graffe oppure ancora potrei definire una funzione confronta corsi corsi che ha c1 e c2 come parametri e al suo interno andare a mettere questo e poi fare un piano studi punto sort a cui passo confronta corsi oppure cambiando leggermente la sintassi invece di definirla esplicitamente come una funzione la definisco come un una variabile e in questo caso può essere una funzione anonima in questo caso vado ad utilizzare confronta quindi questi sono quattro modi di scrivere il confronto tra i corsi e sono tutti assolutamente equivalenti ok domande bene se non ci sono domande proverei a farvi un'altra variante di questa generazione dei dati in cui invece di utilizzare document.write vado ad utilizzare inner html quindi diciamo che io all'inizio del mio body ho una section di uguale piano di studi style style uguale background light yellow color border due punti solid green e andiamo a mettere un pixel 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 a questo punto nel mio script io posso andare a dire document.get elementpyid qui vado a mettere piano di studi e poi vado a mettere il piano di studi e poi vado a mettere il piano di studi quindi possiamo dire in html uguale a la variabile html che ho appena calcolato a questo punto se io vado a ricaricare la mia pagina ok ottengo ottengo quello che vediamo qua chiudo un attimo la console sostanzialmente ottengo questo quindi la mia tabella è stata messa all'interno di quella sezione che abbiamo visto prima attenzione che attenzione che i browser vanno ad analizzare il contenuto del file html in ordine per cui se vado a mettere la mia sezione dopo lo script quello che succede è che qui get element by id fallisce perché quell'id non è ancora stato costruito e riconosciuto vedete che non c'è nulla vedete questa linea verde è sostanzialmente il bordo del nostro della nostra sezione vuota perché perché nel momento in cui io cerco di accedere all'id di quell'elemento quell'elemento non è ancora noto al browser e quindi il browser sostanzialmente quando esegue quel codice ci da un errore infatti se io vado a aprire la console quello che ottengo è type error null is not an object andando a eseguire questa riga document.getelementbyid eccetera se volete lo possiamo esplicitare qua quindi se faccio let sezione uguale get element by id e poi faccio sezione .inner html qui posso fare if sezione uguale a null console.error sezione di destinazione non trovata altrimenti vado a scrivere dentro quindi ricaricando la nostra pagina e andando a vedere la console vedete che c'è il messaggio sezione di destinazione non trovata allora domanda se io dichiarassi la section all'interno dello script con un document.write lo script sarebbe ancora in grado di trovare dove scrivere con il metodo inner html? penso di sì ma non lo sono sicuro direi che quello che possiamo fare è provare document.write section id uguale piano di studi e chiudo sezione ok a questo punto ricarico e direi che ce l'ha fatta ok? non c'è più il contorno perché nel document.write non ho messo lo stile però sostanzialmente l'ha fatta perché cosa succede? questo passa un pezzo di codice al browser il browser a questo punto inserisce quell'elemento all'interno del documento e successivamente quando vado a recuperare l'elemento in pratica ottengo l'elemento con quell'id e quindi posso scriverci dentro onestamente non ha molto senso questo perché se devo andare a usare un document.write tanto vale andare a fare un document.write in tutta la struttura più semplicemente però l'idea è che in pratica questo crea l'elemento, l'elemento è successivamente accessibile e poi ci si vada a scrivere dentro quello che si fa normalmente è di avere un html con alcuni elementi che danno delle posizioni predefinite in cui andare a mettere poi il contenuto e con degli script poi io vado a scrivere quelli che sono i contenuti ok a questo punto ulteriore esercizio che vi propongo rimettiamo questo lo commentiamo rimetto il nostro id in cima dopo h1 e terzo esercizio che vi propongo è andare a vedere quanti corsi per ogni taglia di crediti sono presenti nel piano di studi ok quindi fatemelo mettere come un h3 o meglio h2 frequenza delle diverse taglie di crediti cosa vuol dire vuol dire che ogni volta che durante la scansione del mio piano di studi trovo una una certa taglia quindi sei crediti dieci dodici eccetera vado a incrementare il valore che tipo di dato posso utilizzare per fare questa operazione allora non posso utilizzare un array sebbene i valori dei crediti siano numerici non posso utilizzare un array perché la taglia più piccola abbiamo visto è 6 io non posso andare dentro un array a identificare l'elemento composizione 6 e scriverci dentro un valore banalmente se io ho a scusate frequenza frequenze che è uguale a un array vuoto trovo 6 quello che vorrei fare è andare a dire frequenze di 6 più uguale a 1 il punto è che dopo frequenze di 6 non è un numero non posso neanche dire uguale a 1 no funziona in questo caso il problema è che poi mi ritrovo un frequenze di 5 che è undefined ok un'altra possibilità è quella di utilizzare invece di un array che avrà poi dei valori non definiti un oggetto dove le proprietà dell'oggetto sono le taglie dei crediti quindi let frequenze uguale un oggetto vuoto poi ho il mio solito ciclo i minore di piano di studi punto lenz a questo punto ogni volta che vado a trovare una un nuovo valore vado a sommarlo all'interno della del mio oggetto quindi let f uguale frequenze scusate let f uguale frequenze di fatemelo spezzare in due quindi cfu uguale piano studi di i punto cfu e poi vado a prendere la frequenza di cfu questo può essere undefined se è la prima volta che incontro quella taglia di frequenza oppure un valore che è il numero di insegnamenti che hanno quella dimensione a questo punto cosa faccio se f è undefined vuol dire che è la prima volta che incontro quella taglia di corso e quindi vado a dire che frequenze di cfu è uguale a 1 altrimenti vado a dire che frequenze di cfu più uguale a 1 quindi incremento 1 a questo punto giusto per vedere il risultato faccio un console di log di frequenze altrimenti dovrei fare un ciclo che mi genera html che vado a mettere all'interno della mia pagina quindi ricarico la mia pagina eccola qua questa volta dentro il nostro la nostra sezione e poi qui nella console ci ritroviamo le nostre frequenze quindi per 6 per i 6 cfu abbiamo due corsi per 8 cfu ne abbiamo 10 per 10 cfu ne abbiamo 6 e 12 cfu ne abbiamo 1 quello che conoscete tutti il primo scoglio che avete incontrato al Politecnico se volete possiamo fare una specie di istogramma per fare questo quindi per visualizzare questo dato un istogramma molto banale potrebbe essere fatto in questo modo quindi html uguale a for let crediti in frequenze questo qua è un'interazione ve lo indirizzo un po' sulle proprietà dell'oggetto frequenze cioè su quei valori 6 8 10 e 12 ok a questo punto posso fare html più uguale riga dato dato vado a mettere c cioè la la il numero di crediti più chiudo il dato metto un'altra cella e qui dentro qui dentro vado a scrivere for let j uguale a 0 j minore di frequenze di c più più j html più uguale a hash html più uguale a chiudiamo la cella chiudiamo la riga e alla fine html più uguale chiudiamo la tabella quindi sostanzialmente cosa viene fatto ogni volta che vado a vedere un nuovo valore di crediti stampo genero una nuova riga e nella prima cella vado a mettere proprio quel numero di crediti nella seconda cella vado a stampare un numero di hash proporzionale al numero di corsi che hanno quel livello di crediti dopo aver stampato gli hash termino la cella termino la riga e dopo aver terminato tutte le frequenze chiudo la tabella stampo con un document.write molto semplice a questo punto se torniamo qua e andiamo a ricaricare la nostra pagina vedete che ottengo questo semplice histogramma domanda verrà caricato questo codice si vi metto il codice su repository su cui c'era il valore di partenza cioè gli esempi del piano di studi un'altra cosa che si può fare è andare ad esempio a mettere un frammento di html la cui dimensioni quindi all'interno dello stile è proporzionale al numero di occorrenze che è simile all'esercizio che uno degli ultimi esercizi che c'era nell'ultimo laboratorio a questo punto direi che più o meno la panoramica sugli aspetti principali l'ho fatta abbiamo visto alcune cose spero di aver chiarito anche alcuni dei vostri dubbi tenderei a chiudere la lezione qua a meno che voi abbiate domande su questo o su altri aspetti ovviamente abbiamo ancora un po' di tempo quindi rispondo volentieri se non vi viene in mente nulla in questo momento c'è sempre comunque a disposizione Slack su cui potete fare domande su cui cerchiamo di rispondere appena possibile intanto inizio a allora cosa server in era appunto HTML che è quello che c'è qua allora ci sono due passaggi il primo passaggio è un document che element by ID che sostanzialmente va a recuperare un oggetto che rappresenta un elemento all'interno della nostra pagina HTML in questo caso l'oggetto che ha un identificatore pieno di studi e che è quello che avevamo descritto qua sopra qui vedete che all'interno di questo elemento non c'è nulla ok io ovviamente posso avere tanti elementi me ne metto qua un altro ad esempio P il cui identificatore è capoverso primo capoverso ok a questo punto quello che posso fare ma ne parleremo poi nella prossima lezione è di andare a prendere un oggetto che rappresenta questo elemento piuttosto che questo ok cos'è innerHTML è il contenuto in termini HTML di vi metto in bold questo è il contenuto di questo elemento che ha come id capoverso per cui diciamo che salvo questo torniamo qua sulla nostra pagina la ricarico se io vado a prendere P uguale document punto get element by id e vado a dire che voglio capoverso se faccio P punto innerHTML ottengo come stringa questa che è esattamente quello che c'è all'interno dell'elemento che ha come id capoverso ovviamente quello si comporta come una proprietà come dicono una variabile la posso leggere come ho appena fatto ma la posso anche scrivere posso scrivere P punto in HTML uguale questo è il nuovo esempio mettiamo un M contenuto del capoverso vi scoro qua su vedete che questo è il contenuto che c'è ora che corrisponde a quello che abbiamo appena letto se io assegno una stringa a innerHTML sostanzialmente vado a cambiare il contenuto di quell'elemento e quindi appena invio quanto ho scritto vedete che cambia il contenuto quindi innerHTML mi permette di leggere cosa c'è all'interno di un elemento tutto l'HTML oppure di andarlo a scrivere quello che abbiamo fatto prima con la sezione che abbiamo chiamato piano di studi è sostanzialmente definire una sezione vuota e poi con innerHTML andare a scrivere all'interno di quella sezione tutto il piano di studi che è questo qui che vediamo all'interno della nostra pagina con lo sfondo giallino quindi innerHTML serve per andare a manipolare il contenuto di un elemento all'interno della nostra pagina ovviamente questa è una delle possibilità di manipolazione dei contenuti della pagina poi ce ne sono diversi sarà per l'appunto uno degli argomenti della prossima lezione ok spero di aver risposto alla domanda di aver chiarito il concetto ci torneremo e ci lavoreremo abbastanza su queste cose quindi avrete modo poi di capire un po' meglio come come funziona allora scusate che mi è sfuggita la domanda questo questo giovedì ci sarà questo questo giovedì ci sarà sostanzialmente il prossimo laboratorio quello che faremo è vedere assieme la soluzione del laboratorio precedente quindi quello di giovedì scorso per cui avete ancora un po' di tempo per completarlo è un laboratorio abbastanza lungo lo vedremo assieme quello che vi proporrò è di provare a fare una prima fase di revisione incrociata a gruppi quindi divideremo la virtual classroom in tante sottostanze entrerete in tre o quattro per volta e poi vi confronterete su il codice che avete scritto quindi potrete condividere lo schermo e fare un po' di confronti dopodiché cercheremo di capire quali sono i punti chiave o i punti critici per tutti e allora quello poi in comune cercheremo di discuterlo e poi ovviamente vi presenterò il il nuovo esercizio ok benissimo a questo punto possiamo dare per conclusa la lezione di oggi noi ci rivediamo giovedì per andare a parlare della soluzione del laboratorio della settimana scorsa per cui avete ancora un po' di tempo per rivederlo e concluderlo